Siamo con Mr. Giaroni del Seregno, una partita finita 7-3 in favore del Roller, ma dal mio punto di vista un risultato non proprio giusto perché il Seregno fino alla fine ha combattuto, a un certo punto sembrava che l'intensità del gioco fosse quasi superiore, però non è andata così. Come la vede Mr.? Sì, sicuramente è un risultato forse un po' troppo pesante per i miei ragazzi stasera perché al di là di tutto abbiamo disputato una buona partita, potevamo ovviamente fare qualcosa di meglio, però nonostante il passivo iniziale di 4-0, comunque siamo rientrati in partita 4-2, abbiamo avuto occasioni per fare del 4-3, poi è stato un susseguirsi di gol e poi alla fine purtroppo è andata così, però non ho niente da rimproverare ai miei ragazzi dal punto di vista dell'impegno, dell'intensità e della voglia. Purtroppo in questo periodo mancano i risultati che poi alla fine è l'unica cosa che conta nell'hockey purtroppo. Quindi speriamo di riprendere il cammino giusto già da sabato prossimo. Quindi da sabato prossimo cosa dirai Suoi e come si riparte per il prossimo match? Ma no, si deve ripartire comunque da qua, si deve ripartire dagli errori che abbiamo fatto stasera, si deve ripartire dalle cose buone che abbiamo fatto stasera, dalle cose meno buone, fare tesoro di tutto quello che è poi l'esperienza che viene maturata da questi ragazzi, che poi ricordiamoci sono tutti ragazzi molto molto giovani, quindi da tutta l'esperienza che maturano in campo ogni volta aggiungere qualcosa in più, poi è ovvio che il risultato è sempre quello che conta, però io sono dell'idea che se manteniamo questa intensità, questa voglia, questa dedizione, i risultati arriveranno, quello ne sono sicuro. Bene, un ringraziamento al mister Giaroni, in bocca al lupo per la prossima partita. Grazie mille e in bocca al lupo a voi per le finali di Coppa. Grazie.